Bentornati su GensItalia nella nostra rassegna stampa. Oggi, come sempre per voi, abbiamo selezionato diverse notizie dal mondo. In particolar modo, oggi ci interessava portare alla vostra attenzione dei documenti, o meglio, dei documenti trapelati in merito a quella risposta della risposta che dovrebbe condurre tra qualche giorno, tra qualche ora, non si sa, Israele nei confronti dell'Iran. Poi ci sposteremo. C'è una parte che vogliamo dedicare in merito alla nostra sezione tech che riguarda un sistema, un sistema ad arma molto particolare che è interessante quanto futuristico. Cominciamo. Come sempre vi ricordo che tutti gli articoli li trovate nel primo commento e partiamo con StartMag e in particolare con un articolo di Giuseppe Gagliano che ci racconta che cosa sta succedendo con questa fuga di notizie e di documenti. Recentemente, due documenti top secret americani sono stati resi pubblici fornendo informazioni senza precedenti sui preparativi militari di Israele per un possibile attacco slash risposta della risposta contro l'Iran. Questi documenti offrono un'analisi approfondita delle operazioni clandestine dell'IDF descrivendo con precisione tutte le mosse che Israele sta andando a condurre. In particolar modo si concentra sulle esercitazioni militare condotte in preparazione proprio per colpire obiettivi strategici iraniani. Ora, a differenza di altre fughe di notizie come ad esempio Wikileaks o altre rivelazioni di Edward Snowden, come ci viene ricordato anche in questo articolo, il danno questa volta è stato immediato perché effettivamente si sono fatte trapellare notizie molto importanti. Poi andremo a capire anche quali sono le ipotesi in merito a questa rilevazione, rivelazione, come parlo. Cosa è trapellato quindi? I documenti rivelano che l'aeronautica israeliana sta attivamente preparando l'uso di missili balistici, lancetti dall'aria, tra cui il modello ROX sviluppato da Rafael e il nuovo missile Golden Horizon, mai menzionato pubblicamente prima. Questi missili che possono raggiungere obiettivi fino a 2000 km di distanza sono stati visti nelle basi aeree durante le esercitazioni. Queste armi vengono caricate sui caccia F-15I, noti anche come Thunder, che rappresentano la punta di diamante dell'aviazione israeliana per missioni di attacco a lungo raggio. Chiaramente ci sono anche gli F-35, gli F-16, ma sono degli aerei con dei ruoli e soprattutto delle capacità diverse in molti casi. Rafforzamento delle difese, ne abbiamo già parlato, il rafforzamento delle difese, che viene menzionato anche in questo documento, va a fare un po' da ponte con quella notizia che riguarda anche la difficoltà di approvvigionamento che sta riscontrando Israele nei vari sistemi di difesa a tre strati, ad esempio l'Iron Dome e l'Arrow, l'ultimo non me lo ricordo in questo momento, scusate il Lapsus, che vanno a integrare tutto poi l'apparato degli allarmi che ha a disposizione Israele per avvertire la propria popolazione e il proprio esercito di eventuali attacchi in arrivo o imminenti. Il rapporto ha anche rivelato che Israele ha rafforzato appunto le sue difese e inclusi sistemi per intercettare missili e droni iraniani. Droni che nell'ultimo caso, vi ricorderete, nell'ultimo attacco non avevano avuto un ruolo così importante quanto invece i missili balistici e quindi anche la difesa di Israele era dovuta essere elaborata in merito a ciò. Infatti, se vi ricordate bene, l'Iron Dome contro i sistemi missilistici balistici non ha assolutamente un ruolo. Forze speciali, si è parlato anche di questo perché un altro elemento chiave emerso dal rapporto è il ruolo delle forze speciali israeliane. Queste unità sono state osservate durante i preparativi per operazioni segrete a lungo raggio che potrebbero includere incursioni sul suolo iraniano per neutralizzare obiettivi chiave prima di un attacco aereo. Anche i droni a lungo raggio utilizzati per missioni segrete sono stati citati come strumento cruciale per l'intelligenza e la preparazione dei attacchi. C'è un articolo che cerco di ricordarmi di mettere nel primo commento insieme a questi articoli dove si parla anche di un drone per così dire segreto israeliano stealth. Però non voglio ancora sbilanciarmi troppo perché sono ancora delle speculazioni. Quindi tenetelo lì come notizia da prendere con le pinze. C'è anche chiaramente il ruolo principale che viene evidenziato dell'aeronautica militare. Uno degli aspetti più sorprendenti è il predominio dell'aeronautica israeliana nella gestione delle capacità di attacco a lungo raggio. Anni fa, viene ricordato, c'era stata la proposta di creare un corpo missilistico separato in Israele ma questa idea era stata scartata a favore del potenziamento delle capacità dell'aeronautica di utilizzare missili balistici lanciati da aerei. Per quale motivo? Questo approccio offre notevoli vantaggi tattici. L'aereo può lanciare il missile da quote più elevate migliorando la portata e rendendo più difficile l'intercettazione da parte delle difese nemiche. Questo è quanto ci viene raccontato nell'articolo. Chiaramente StartMag è un sito molto serio, mi fido di quello che dicono. Se avete delle informazioni in più da dare in merito a questa affermazione sono a disposizione nei commenti, sempre in maniera civile. Tra l'altro vi porto anche un'ulteriore aggiunta da parte di Reid, che poi ci servirà per un'altra notizia. Reid suggerisce che un altro ruolo che potrebbe avere in questa risposta una forza armata, e mi riferisco alla marina, si parla dei sottomarini Dolphin, che stando a quello che ho trovato si parla di un numero a disposizione di Israele di circa 5-6 sottomarini. I numeri precisi chiaramente variano a seconda della fonte. C'è uno ad esempio che non ho capito bene se è già in costruzione oppure se è già stato ultimato, me lo direte anche voi in questo caso. Poi c'è un'altra componente che secondo alcuni non avrà un ruolo, secondo altri sì, ma io ve la menziono, ovvero i missili Gerico. Questi missili, nella loro variante, hanno la possibilità di trasportare delle testate nucleari, Dio non voglia, non penso che sia questo il caso, ma anche delle testate convenzionali. Ora che abbiamo messo un po' di carne al fuoco e vi ho dato una visione generale di quello che è emerso, la grande domanda rimane chi ha fatto trapelare questi documenti oppure se effettivamente è stata una fuga di notizie. Secondo alcuni potrebbe essere tutto riconducibile, non tanto una fuga ma una volontà anche degli stessi statunitensi di far emergere questi dati per rimandare l'attacco. Per quale motivo? Beh, banalmente per quello che sta accadendo con le elezioni in America. Sappiamo benissimo, oggi leggevo proprio un articolo sul post, del fatto che le elezioni in America sono davvero delle elezioni molto in bilico. Kamala Harris si trova in difficoltà contro Trump, alcuni sondaggi la danno in lieve vantaggio, altri addirittura alla pari con Donald Trump, quindi la situazione è quella che è. Ovviamente, nell'eventualità di un attacco da parte di Israele alla parte petrolifera dell'Iran, comporterebbe nell'immediato periodo un inalzamento del prezzo alla pompa della benzina e di conseguenza potete immaginare l'elettorato come potrebbe andare a rispondere. Quindi l'ipotesi di un furto è sicuramente da prendere in considerazione, ma anche un falso furto, una trappelazione voluta di questi documenti, beh, ci sono degli elementi da prendere in considerazione. Quante volte vi parliamo di droni qui sul canale? Beh, io direi ormai una volta a puntata, ma oggi parliamo di qualcosa di diverso. Parliamo di un sistema che dovrebbe essere integrato a bordo di questi mezzi. Di quale sistema stiamo parlando? Beh, stiamo parlando del sistema che è stato recentemente presentato da Leonardo, un sistema che è stato portato avanti nella sede UK di Leonardo, un sistema che fungerà da sistema Jammer, Stand-in Jammer. E stiamo parlando del cosiddetto Bright Storm. Qual è il suo sviluppo? Facciamo un passo indietro. Beh, esso deriva dalla contromisura radar attiva Bright Cloud, su cui poi ci facciamo un focus. Un sistema che è già stato elaborato, è già stato provato dalla RAF e che è in procinto anche di essere provato dall'USAF sui F-35A. Ora, stiamo parlando di un sistema che ha un peso ridicolo, 2,5 kg. Lo potete portare anche al mare. Un'antenna specifica per la piattaforma scelta, un miniature technique generator per generare i segnali di disturbo e necessari moduli di trasmissione e ricezione. Questo grosso modo sono le parti più importanti. La parte poi interessante è l'impiego di energia. Il sistema avrà un basso consumo energetico e potrebbe essere alimentato dall'equivalente della batteria di un veicolo lince e specificatamente destinato all'utilizzo su piattaforme spendibili. Quindi anche il prezzo chiaramente sarà calmierato, limitato, una cosa importantissima al giorno d'oggi. Lo sviluppo. Beh, Leonardo lavora da tempo al concetto di standing jammer in grado di oscurare una formazione di velivoli d'attacco e mettendo falsi segnali direttamente all'interno delle cosiddette bolle della difesa aerea ostile. Ne abbiamo parlato in più occasioni di che cosa sono le bolle. Ma fondamentalmente, come vedrete anche nei video che vi sto mostrando probabilmente in questo momento che la regia manderà in onda, potete già capire quale sarà lo scopo innovativo di questo genere di sistemi. Quindi, per quanto riguarda l'impiego, Bright Storm può equipaggiare velivoli a pilotaggio remoto confondendo le difese nemiche con sofisticate tecniche di disturbo e inganno digitali. La cosa poi interessante è anche la capacità in autonomia di riuscire a capire quale minaccia ci si trova di fronte, minaccia o difesa, scegliete voi il termine più giusto. Sono già stati effettuati diversi voli di successo e Leonardo ha lanciato il prodotto ad AUSA, la fiera annuale delle forze armate USA in corso a Washington. Il Bright Storm consentirà alle forze armate di operare in profondità nel territorio avversario anche quando quest'ultimo è protetto dai più avanzati sistemi integrati di difesa aerea, citofonare S-400 ad esempio. Il sistema è in grado di anticipare o coprire quindi l'avanzata degli alleati in territorio ostile, andando a generare una risposta efficace a seconda delle minacce incontrate e della bolla nemica in cui bisogna operare. Facciamo subito una specifica. Per quanto riguarda la differenza con Bright Cloud, stiamo parlando di un progetto diverso. Bright Cloud è progettato per interrompere i sistemi di guida radar dei missili in arrivo, mentre il Bright Storm è stato progettato per confondere e sopprimere i radar di sorveglianza a terra, impedendo al nemico di tracciare e quindi di impegnare chiaramente le forze amiche. La sua tecnologia rileva e valuta l'ambiente di minaccia dal punto di vista della guerra elettronica per poi scegliere la tecnica di contromisura più adeguata. A seconda del contesto, gli effetti possono variare dall'ostacolare sistema nemico con del rumore elettronico a tecniche più sofisticate come la creazione di decine di tracce realistiche di velivoli da combattimento fantasma che in questo modo vanno a confondere l'antiaerea nemica e ovviamente anche la risposta nemica. Per questo, prima vi dicevo che questo sistema costituisce il futuro e anche un modo per riuscire a preservare chiaramente le proprie forze ed è installabile, come detto, su molti droni, droni economici e spendibili. Per quanto riguarda invece la parte industriale ed economica ci sono già dei potenziali clienti, ovviamente l'Inghilterra, gli americani, ma bisogna guardare anche all'Europa, al Medio Oriente e chiaramente a quello che succede nel Pacifico. Quindi questa è la situazione di questo sistema di cui sono curioso di conoscere la vostra opinione. Tocca a voi, fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti in maniera civile, in un mondo non civile e soprattutto se il video vi è piaciuto potete aiutarci condividendo questo video e lasciando un mi piace. A presto qui su Gensitalia con nuove notizie.